Adesso il passaggio di Ivan Rakitic all'Inter non è più solo un'ipotesi di mercato. Le voci che arrivano dalla Spagna si fanno sempre più insistenti e parlano di una trattativa ormai più che avviata. Addirittura, secondo Mundo Deportivo, i Nerazzurri e il Barcellona avrebbero già discusso dell'affare e mancherebbe soltanto l'ok finale per il trasferimento del centrocampista croato. Si tratta di un'operazione da 50 milioni di euro quanto i catalani valutano il vice campione del mondo e fresco di titolo della Liga. Per la stretta di mano finale comunque bisognerà attendere il termine della stagione che vede il Barça in attesa di giocare la finale di Coppa del Re contro il Valencia. Rakitic era già sul piede di partenza la scorsa estate ma aveva deciso di restare per provare a vincere la Champions League. Fallita la missione europea avrebbe deciso di provare una nuova avventura. Anche perché l'arrivo dall'Ajax di De Jong gli toglierà spazio e i rapporti con la tifoseria sembrano essersi deteriorati definitivamente dopo il tracollo di Champions. L'Inter invece pare fare al caso suo proponendogli un ruolo da protagonista assoluto magari al fianco dell'amico Brozovic. Ancora non si parla di un accordo tra Marotta e il giocatore sullo stipendio e la durata del contratto ma dovrebbe essere solo questione di tempo anche se dalla società filtra una certa freddezza. Il profilo piace ma i costi sono da valutare. L'affare non è così avanzato come raccontano in Spagna. L'affare non è così avanzato come raccontano in Spagna. Grazie a tutti.